A proda alle semifinali di Miss Italia 2016 che si svolgeranno lunedì prossimo a Jesolo la 19enne Sacenza e Mari Carribaudo. Lo fa dopo aver conquistato venerdì scorso a Caltagirone la corona di Miss Rocchetta Bellezza Sicilia. Sarà alle semifinali di Jesolo che tra le oltre 200 ragazze in concorso verranno scelte le 40 che parteciperanno alle finali di Miss Italia del 10 settembre. È stato venerdì, mi ricordo che avevo il numero 17 quindi la combinazione venerdì 17 non è mai una sfortuna. Comunque è andata benissimo, ho fatto varie tappe in cui ho preso varie fasce e poi è arrivato appunto venerdì in cui sono riuscita ad arrivare prima a prendere la coroncina con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Ecco alla fine è un traguardo, è un piccolo traguardo perché ancora la strada c'è ed è lunga. Sì, la strada c'è ed è lunghissima ancora, non facciamo pronostici e niente, già i miei amici sono molto elettrizzati però dico state calmi perché ancora dobbiamo superare i vari gradini. Ecco cosa c'è adesso? A Jesolo cosa aspetta tutte le finaliste che arrivano lì? Adesso avremo la prefinale nazionale appunto, prima di passare alla finale che sarà appunto il 10 settembre, quella con le 40 finaliste. Lì saremo in 212 ragazze a gareggiare per questo titolo o almeno per arrivare alla finale. Ecco cosa ha raccontato Marika di sé in queste lunghe selezioni estive in giro per la Sicilia? Ho raccontato di me appunto che sono stata, ho fatto questa meravigliosa esperienza di un anno in America che ho studiato lì acquisendo il diploma americano e poi che appunto vorrei studiare, sto studiando anzi per entrare nella facoltà di medicina e successivamente ho raccontato delle mie varie passioni, del mio amore per gli animali, per lo sport in generale, per i cavalli soprattutto che molti sanno che faccio equitazione anche, ho fatto a livello agonistico, in particolare nel salto ostacoli e soprattutto di una grande passione che è la recitazione, in quanto amo tantissimo il mondo dello spettacolo, della moda e voglio assolutamente entrare a far parte, ho parlato che sono una ragazza determinata, che voglio arrivare appunto ai miei obiettivi. Molti dicono ma no, ma Miss Italia è un concorso così, appunto andiamo a dimostrare che la bellezza, la vera bellezza non è solamente essere senza cervello ma che a volte c'è gente che può avere entrambe. Un traguardo, ma non è certo l'ultimo, precisa la 19enne Saccenze ai nostri microfoni, che tiene bene i piedi per terra e che nel concorso di bellezza vede solo uno dei suoi prossimi obiettivi. I obiettivi di Marika oltre alle profine di chiesa, l'ho appunto già detto di studiare, di realizzarmi, assolutamente voglio laurearmi. Vedremo come andrà a finire, se questa cosa di Miss Italia andrà a buon fine, giustamente magari vedremo successivamente in quale campo specializzarmi. Io mi piacerebbe tantissimo fare medicina, però ovviamente se riesco a fare quello che mi piace, che è la recitazione, magari studiare recitazione, successivamente magari potrei vedere un altro, studiare un altro tipo di laurea, per un altro tipo di laurea. Intanto è in bocca al lupo. Campi il lupo, campi il lupo, niente che fa, campi il lupo. Campi il lupo.